E' una delle donne in carne ed ossa o cosa? Una donna in carne ed ossa. Prima della... Questa è una cosa che deve essere presa sul serio. Certo. Prima delle nostre esercitazioni uscite armate e via discorrendo, eccetera, eccetera. Mi deviava dare naturalmente prova di affrontare la morte, di avere il rito... Sì, di fare il rito, di svolgere il rito. Il rito della morte, il fatto di essere capaci di affrontare qualsiasi circostanza, di non essere più vivo, con tutto che vi era la devozione verso la donna. E la donna veniva identificata come la morte. Sì, proprio questo, esattamente.